Il punto nascita di Sulmona è la dimostrazione della truffa della destra in campagna elettorale. Cinque anni di strumentalizzazioni, due anni di governo per produrre il nulla. La richiesta è datata due anni fa. Questo è il parere del Comitato Nazionale, un parere che tiene conto di una richiesta del luglio del 2019. Da allora la Regione non ha fatto nulla per mettere in regola e chiedere le deroghe dettate dalle norme. Un'aggiunta lenta che su questo tema ha soltanto utilizzato e strumentalizzato in campagna elettorale figure come Salvini e Meloni e poi non ha prodotto nulla. Lo stesso parere nazionale richiama i poteri della Regione. Si dice alla fine di questo parere, se mettete a norma il punto nascita, avete i poteri, anche perché grazie a noi la Regione ha concluso il commissariamento, per poter produrre gli atti tra organico, messi in sicurezza, guardia H24. Ecco, di tutto questo non è stato fatto nulla. Solo una truffa da campagna elettorale.